Ciao a tutti i burlani sono Arci e benvenuti in questo nuovo video dei troll sul mio canale Ragazzi siamo tornati con un troll old style sulle skywars del mio server Siamo su Pixlr, se volete entrate ci stiamo ampliando un sacco di slot Quindi se non avete ancora provato le potwars, se non avete ancora provato le nuove cubo Se non avete ancora provato queste skywars che a me piacciono particolarmente tanto Andate a provarle perché in teoria adesso ci saranno anche più slot e più spazio E ci sarà molto meno larga, fidatevi perché ci stiamo lavorando davvero un sacco Vi invito fin da subito a lasciare un mi piace ragazzi Superiamo i 10.000 mi piace per un nuovo troll fra due settimane barra fra una settimana Come riuscirò a gestirmi perché come vi ho detto cercherò di portare più troll possibili Solamente che non riesco tante volte a portarne uno a settimana Perché comunque ho un video impegnativo e non voglio poi finire tutte le idee Per poi arrivare tipo fra 3-4 mesi e dire no non so più che cosa fare Io potrei fare sempre le stesse cose però poi oh ragazzi, poi oh ragazzi, poi oh ragazzi Iniziamo subito vi lascio all'interno, mi racconto lasciate un mi piace e iscrivetevi se non siete iscritti Bella Marci burlone Ragazzi allora eccoci qua Vi dico solo che io sono un enderman Io non mi vedo come enderman, però this guy is enderman Tutta la gente che mi beccherà in partita beccherà un enderman Quindi ora facciamo una cosa, facciamo slash vanish Ci tippiamo da qualcuno tipo da TP, andiamo a caso Da Chrisfire05 che è in partita peraltro Ok siamo fortunati che è in partita Ok ragazzi facciamo spawnare questo enderman Facciamo spawnare questo enderman Boom Non sono più in vanish ragazzi, non sono più in vanish Faccio finta di camminare, vediamo che cosa fa Ma è già caduto? What the fuck? Ma è già... ma che cazzo? Ma... what the fuck? Uh, guarda Lisa contro Hitz Dunk Attenzione incredibile Ma guardalo, guardalo Guardalo con che cattiveria Con che cattiveria Guardate, ok Lisa l'ha ucciso Io adesso... Lei in teoria mi sta vedendo Mi vede da enderman Questa qui si vede un enderman correre dietro Non ci credo Non facciamola cadere Non facciamola cadere ovviamente Cerchiamo di non farla cadere Però gli diamo un bel knockback Boom Guardate un po' che roba Guardate un po' che roba Ciao Questa qui si sta... Secondo me è spaventatissima No l'ho buttata giù L'ho buttata giù Mi sa... ma sono bloccati in un blocco Ma porca trotto Allora, Lisa Cosa... cosa... cosa vuoi combinare? Cosa che stai facendo Lisa? Scrivi qualcosa in chat Scrivi qualcosa in chat Lì... lì... ok Mettiamoci in vanish Boom Siamo spariti Siamo spariti dai Siamo spariti Vediamo se scrive qualcosa in chat Vediamo se scrive qualcosa in chat Attenzione, ho paura Ho paura che scriva qualcosa in chat Diamogli un effetto Lisa Facciamo tipo... Bello eh 1... 10... 10 Quindi lei adesso ha velocità per 10 Attenzione Attenzione Guardate come corre Vediamo anche la jump adesso Vediamo anche la jump 7... cosa gli ho dato? No raga Gli ho dato instant damage Nooo... No raga no Nooo... 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 Vi giuro che volevo dargli la... La jump è la 8 allora Eh jump booster a 8 Zio pera ignorante Bestia schifosa Ragazzi TP Super Mario 2004 Eccolo qua No non si è buttato Buttati Super Mario Bravo Super Mario Buttati Bravissimo Facciamolo già andare Ok è partita la partita Lui non sa che è partita in realtà Ahahahah Non può aprire niente Ahahahah Allora Ah questo qua allora Effect Effect Solar Cos Li diamo Jump boost 10 10 Vediamo se lo prende Eccolo Guarda come salta Guarda come salta Guarda come salta Guarda Guarda come salta Allora diamogli 100.000 secondi Per 10 Dove è andato? Ok Bomber occhio Occhio Stai attento per favore Perché Cioè diamogli tipo 5 40 Guarda se salta è un casino Guarda Salta Salta Bomber Bomber Salta 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 Devi saltare Devi saltare Allora io adesso ti chiudo in un blocco Pur di non saltare Adesso devi saltare per forza Bomber Mi piace devi saltare Devi saltare Devi saltare Per se non salti è un casino Sono buggato Dove andare? Ehm È sparito No Raga Lisa Ah Lisa Ciao È tornata Lisa Aaaaa Diamo lì 30 tipo di Di jump boost Ciao Lisa Tutto bene? Io so che tu stai benissimo Adesso facciamo una cosa Tipo facciamo così Adesso speriamo che non veda Qui però deve saltare per forza Alessio chi sei? Io dopo vado da Thompson Volto c'è rimasto di merda Guarda lì Guarda lì Guarda lì Guarda Guarda come se la gioca Occhio volto Volto Occhio Volto Volto Valto Nooo Raga diamoli Diamoli 70 Diamoli 70 di jump boost Guardate come vola Guardate come spicca il volo Guarda guarda Devi saltare Bomberissima Devi saltare Salta Salta Si Salta 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 Dai salta Devi saltare zia Si devi saltare Si devi saltare Si devi saltare Ora Salta È sparita Raga Super Mario Non puoi far team Non potete far team Vi devo bannare Dopo vi bannirò Cross teaming Non si può fare Cross teaming Non si può fare Però noi adesso lì Allora facciamo Effect Super Mario Li diamo Super Mario 2004 Li diamo La jump boost A 100 Guardate che spicca il volo Mi sa che lo chicca per fly Raga Non c'è più Non c'è più Super Mario There is no player online No raga È proprio crashato È crashato Andiamo Diamo la zerder Diamo la Bravo Zerder 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 Pronto Salta No la velocità La velocità La velocità Ragazzi la velocità È già Un boost Oddio sto Mario Oddio Raga guardate questo qui Guardatelo 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 Quattordici Sì che lui vuole la velocità Sì che la vuole Sì che la vuole Sì che la vuole Mamma no Super Mario 2004 Super Mario 2004 Super Mario 2004 Proprio lui Credibile Sì Super Mario Sì Super Mario Ti do Ti do 30 per adesso Ti do 30 Di jambù Eccolo qua Guarda che vuole uscire Guarda che è uscito Guarda che è uscito Non ha più niente Raga L'unica cosa che può fare È saltare in un'altra isola È saltare in un'altra isola Diamo pure la Diamo pure la velocità No vi giuro che se si mette A spaccare i blocchi Rido troppo Marcia Ci conosce No sto male Diamo gli di blocchi Diamo gli di blocchi in diamante Raga I blocchi in diamante Diamond Raga sì Sì lo riempiamo di blocchi in diamante Lo riempiamo di blocchi in diamante Allora diamond Vieni qua Bombe Allora guarda qua Guarda cosa ti do No 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 Non cadere Prendi il diamante Ti ho buttato il diamante Sì Altre diamanti Guarda come si salva Adesso Dai usa i blocchi di diamante No raga Li riempiamo di mele d'oro Golden Diamo gli tipo 60.000 mele d'oro Guarda Guarda che gliele Continua a buttare Guarda Girati Girati Aiuto c'è un hacker Sto malissimo Sto malissimo Sto malissimo Diamo gli tipo Protection Allora Protection 4 C'è protection 4 5 Anche no No protection Si ferma 4 Che mi ricordavo giusto Allora Diamo gli tipo Full protection 4 Facciamo così Anvil 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 Vediamo un anvil Facciamo così E facciamo No raga Sto malissimo Aspetta Bottle Devo dargli anche le bottiglie di esperienza No Devo dare le bottiglie di esperienza Che raga Che raga ma sto Ha scherzo di me Faccio fatica con mal di cuore Giuro Mi sto sentendo male No raga Raga Io continuo all'infinito Io continuo all'infinito Io continuo all'infinito E se non faccio Faccio Slash XP Jax Vediamo tipo Così Gli abbiamo andato a 158 livelli Ok Bravo Si con i blocchi in diamante Guarda che si fa il fortino Mamma mia Raga Mamma mia Raga Mamma mia Mamma mia Però sta Jax qui Li diamo Effect Jax Li diamo Sempre il jump bus Li diamo tipo 4 1 a 400 secondi 4 Vedete che salta un foto Guardate che salta un foto Le diamo 10 Sempre di più Sempre di più E ora le diamo Vai 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 Salta Salta Devi saltare Salta Si Salta Mi sa che l'abbiamo fatta crashare E vabbè niente Per questo video è tutto Spero che il troll vi sia piaciuto Da marcia è tutto Bella Ciao